Perché lo sport non è naturalmente solo quello di Cagliari, di Dinamo, delle società professioniste. Un grande ottimismo, la squadra di Coach Pozzecco naturalmente è pronta a ripartire come tutte le squadre e come tutti noi. Perché lo sport non è naturalmente solo quello di Cagliari, di Dinamo, delle società professioniste, ma tutti hanno sofferto da non poter muoversi in questa quarantena. Allora, parliamo oggi con Maria Pina Casula, che è il presidente per quel che riguarda la Sardegna dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Ed è con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, le volevamo chiedere subito in apertura. Quanto è stato difficile per i suoi associati, che in Sardegna sono 23.000, diciamo, rimanere chiusi in casa per tutto questo tempo? Guardi, è stato difficilissimo, però devo dire che i nostri istruttori tecnici sono bravissimi, sono riusciti a mantenere con gli associati un rapporto costante, quindi attraverso tutta una serie di attività che si sono potute fare anche da casa. Abbiamo affrontato con la giusta consapevolezza questo grave momento di crisi sanitaria, cercando di dare tutto il supporto possibile agli associati. La nostra organizzazione, come lei giustamente ha detto, si occupa in particolare di sport sociale, di sport amatoriale, come noi lo definiamo sport per tutti, ovvero un'attività sportiva e motoria alla portata di tutte le persone, quindi dai bambini con un'attenzione particolare, anzi a quelle fasce più deboli della popolazione, quali appunto bambini e anziani. Quindi in questo momento di grave pandemia, dove gli anziani sono stati le persone più vulnerabili, abbiamo cercato in tutti i modi di stare il più vicino possibile, continuando a garantire con le dovute accortese, con la dovuta adattabilità, diciamo continuando a garantire quell'attività motoria anche all'interno dei propri appartamenti necessaria per continuare ad avere uno stato di salute apprezzabile. Voi avete creato una serie di video, di tutorial, quindi di lezioni online, per fruibili da casa, vero? Assolutamente sì. E come avete fatto? Quindi attraverso dei video tutorial realizzati dagli istruttori, della durata di una quindicina di minuti circa, inviati quotidianamente attraverso i canali dell'associazione, con allenamenti iscritti che le persone e gli adulti hanno potuto realizzare nei propri appartamenti. C'è stata, dicevo prima, una grande adattabilità, quindi potendo fare le attività sportive non solo con gli attrezzi igiennici tradizionali, ma utilizzando anche gli oggetti a disposizione dei propri appartamenti, quali ad esempio bottiglie o libri nel caso non si avessero pesi o utilizzati come rialzi appunto per fare gli esercizi, ma allo stesso tempo anche le sedie, i divani, le panche, che oltre che essere utilizzati per fare quegli esercizi che alcuni anziani non potevano fare stando a terra, sono stati utilizzati anche però con altre funzioni, ad esempio il divano appoggiando sopra le gambe per fare delle attività sul tappeto. Adesso invece con la fase 2 si riparte, c'è la vostra nuova campagna e soprattutto è incentrata anche sui campi estivi per i bambini. Assolutamente sì, i campi estivi sono, a parte una nostra peculiarità di tutti i comitati WISP presenti sul territorio della Sardegna perché riguardano un importante strumento per la conciliazione dei tempi casa lavoro per le famiglie, è già da oltre un mese infatti che ci stanno chiamando per capire se i centri estivi potranno riaprire e con quali modalità. Oggi fortunatamente con le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio due giorni fa possiamo dire che i centri estivi ripartiranno naturalmente con tutta una serie di accortezze per quanto riguarda la tutela sanitaria e quindi la sicurezza che è in modalità differenti anche per esempio nel rapporto tra educatori e bambini. Molto bene, poi ricordiamo che voi anche durante questo periodo di lockdown l'organizzazione ha lavorato insieme ad altre associazioni, Save the Children con Caritas anche per pagare bollette per aiutare persone che erano in difficoltà e non solo in difficoltà perché non si potevano muovere. Grazie Presidente.